Buongiorno a tutti, buon mattinato a tutti, benvenuti. Entrarei subito nel merito perché abbiamo un tempo di lavoro di circa due ore, mi hanno detto, compresi per chi deve fare i crediti ECM, eccetera, quindi onnicomprensivo di tutte le funzioni. Oggi il focus è sul trattamento. Chi di voi ha partecipato ai conti precedenti? Molti? No, una minoranza esigua, sparuta. Vabbè, quindi nel parlare di trattamento non posso esimermi da qualche considerazione sulla contestualizzazione del fenomeno. Coloro che chiedono aiuto tra i giocatori d'azzardo in grande difficoltà, definiti generalmente patologici, con un disturbo di gioco d'azzardo conclamato, sono la punta dell'iceberg di coloro che sono più in generale in difficoltà con il gioco d'azzardo. Allora, non possiamo trattare la punta dell'iceberg ignorando l'iceberg. Perché lo psicoterapeuta non è, diciamo, psichicamente chiuso nella torre d'avorio del suo studio, del suo servizio. Oggi, soprattutto rispetto a questi problemi delle dipendenze, si dota di antenne e alcuni servizi si dotano addirittura di unità di strada che vanno incontro alle problematiche per connettere, diciamo, i vissuti e la sofferenza dei pazienti con i fenomeni della realtà sociale che oggi cambia con velocità impressionante e impensabile anche. Allora, qual è il contesto in cui si genera poi la punta dell'iceberg, cioè il disturbo del gioco d'azzardo? Beh, il contesto è il nuovo paese dei balocchi che in Italia si è venuto a generare. Come è accaduto tutto questo? Beh, abbiamo avuto, dalla fine del Novecento, degli ultimi anni del Novecento, la progressiva deregulation dell'articolo 718 del Codice Penale e seguenti, che è ancora in vigore e che proibisce il gioco d'azzardo e lo punisce. Ma, c'è un ma, si può andare in deroga. I monopoli di Stato, autorizzati dal Governo, possono fare tutta una serie di concessioni e introdurre sul mercato una serie, e vedremo molto lunga, di giochi leciti. Allora, fino alla fine degli anni Novanta, c'era solo, mi ricordo anche quando tanto tempo fa, Once Upon a Time, ero piccolo io, c'era solo il totocalcio, il lotto e la lotteria della Befana. Più il totip e le corse dei cavalli, che erano però considerate la riserva di quelli presi un po' male. Oggi l'Italia, nel giro dei 15 anni, 16-17, è diventata il terzo paese nel mondo dove si gioca di più. Il primo in Europa. Pur avendo una popolazione che è l'1% della popolazione mondiale, l'Italia detiene il 4,4% di tutti i giochi d'azzardo. E, in particolare, rispetto al mercato europeo, l'Italia detiene il 15%. Tutto è cominciato nel 1997. Vengono introdotte le nuove giocate all'otto, il superanalotto e le sale scommesse. Nel 1999 arrivano i bingo, le sale bingo. Molto spesso, non so se è capitato anche qui, lassù dove abito io, a Torino, al posto di molti cinema chiusi. Nel 2003, nella finanziaria di allora, si dà il via alle slot machine. Nel 2005 si introduce la terza giocata all'otto e le scommesse online. Nel 2006 si possono aprire i nuovi corners e i punti gioco per le scommesse. Nel 2008 si dà il via ai giochi che raggiungono l'utente, quindi tramite gli sms telefonici. Nel 2010 le estrazioni delle lotterie diventano giornaliere e si dà il via alle VLT, che sono le videolotterie telematiche, dove non metti più la moneta o il gettone, ma metti le banconote direttamente. Nel 2011 c'è l'offerta al supermercato, a chi va a fare la spesa, di biglietti di lotteria al posto d'arresto della spesa. Nel 2013 online arrivano anche il grattevinci e il lotto e così via, poi fino al 2015. Qual è il risultato di questa enorme deregulation? Di questa deroga a quello che è il divieto dell'articolo 718 del codice penale. Il risultato è che in meno di 20 anni è mutato il panorama urbano delle nostre città. Abbiamo una capillarità di offerta di gioco estremamente diffusa, anche, soprattutto, lo sappiamo, nei servizi commerciali generalisti. Io vado al bar, vado all'altabaccaio e trovo, diciamo, un retrobottega abbastanza visibile con l'opportunità di giocare, ad esempio, le macchinette. In un paese, io ho in mente la mia città, Torino, che è una città che è scesa sotto milioni di abitanti, un po' più depressa, nel senso che il nord-ovest è andato un pochettino in crisi, prima della crisi del 2008, dove i negozi sono chiusi, e al posto di molte serrande chiuse, gli unici negozi che hanno aperto sono stati i comproro e i punti scommessi. Oggi abbiamo una slot ogni 150 abitanti, siamo arrivati ad avere i distributori automatici di gratte e vinci, tra l'altro, a proposito dei gratte e vinci, il 19% di tutti i gratte e vinci che girano nel mondo è venduto in Italia. Cioè, un gratte e vinci ogni cinque è venduto in Italia, record mondiale. Nella lotteria del milionario la media di gratte e vinci per l'italiano che è stata comprata è di 35 a testa. Poi è la media di Trilussa, sappiamo. Questo fa sì, e poi su questa parte iniziale mi fermo, che la spesa complessiva annua per i consumi italiani, che è in generale per tutti i consumi, che cosa gli italiani consumano, quanto gli italiani consumano, la spesa totale di 800 miliardi di euro. Il 10% di questi 800 miliardi va in gioco d'azzardo. Nel 2010 erano 61 miliardi, nel 2017 sono diventati 101 miliardi. Tenete presente che, rimanendo sul dato del 2010, le spese per auto erano 38 miliardi, le spese per abbigliamento erano 43 miliardi, appunto le spese dell'azzardo erano 61 miliardi. Quindi si consuma meno e si gioca di più, sacrificando, ad esempio, alcune spese che sono essenziali. Sapete come, paradossalmente, il super ticket sulla salute, invece di fare cassa per lo Stato, ha fatto scendere le entrate, nonostante sia aumentato il costo, perché la gente non va a farsi fare gli esami, non va a fare le prestazioni. Quindi l'industria del gioco in Italia, oggi, è la terza, per così dire, azienda nazionale, dopo l'ENI e l'ENEL, come movimentazione complessiva di soldi, che sono intorno al 3,4% del PIL. E infatti la spesa media pro capite annua è in progressiva ascesa. Nel senso che nel 2001 pro capite, sempre come media, si spendeva 335 euro in azzardo, nel 2017 se ne spendono 1.400. Quindi la spesa media pro capite, con alcuni record, ad esempio, non chiedetemi perché, Pavia è la città che per molto tempo ha detenuto il record della spesa d'azzardo, 2.954 euro pro capite all'anno, quasi 3.000 euro. Guardate che la non lontana Teramo da qua è arrivata a terza, con 1.898 euro di spesa pro capite all'anno. Possiamo dire che quindi la deregulation ha portato progressivamente a un'economia, come la chiamiamo, di dissipazione, forse, semplicemente. Perché con l'azzardo non si producono bene i servizi, non si alimenta la produzione, anzi, la spesa del gioco d'azzardo fa da moltiplicatore negativo della domanda di bene i servizi. l'altro ieri ero in Regione Piemonte perché sapete che la Regione Piemonte ha fatto una legge durissima contro il gioco d'azzardo, non solo si è limitata a limitare il tempo di gioco, no? Ad esempio Torino ha detto al mattino nessuno gioca, cioè evitiamo che succeda quello che succede per gli alcolisti, no? Che al mattino vanno al banco e si fanno il cicchetto. E quindi noi le slot accese non le vogliamo vedere alle 8 del mattino, anche perché alcuni studenti dirottavano in quelle zone piuttosto che a scuola. Quindi si può giocare a Torino dalle 14 alle 18 e poi dalle 20 alle 24. Ma la legge della Regione Piemonte ha detto ai commercianti guardate che avete tempo, due anni, tre anni, per diminuire prossimamente la vostra offerta di slot machine. Gli anni sono passati perché la legge è il 2016, adesso ci siamo trovati di fronte alla protesta dei commercianti che dicono alla Regione guardate che se applicate la legge noi dobbiamo licenziare. Perché è vero che questo movimento di soldi ha prodotto un po' di occupazione. Io mi occupo di tossicodipendenze di altro tipo, di sostanze psicotiche prevalentemente anche di gioco d'azzardo ovviamente, un mio utente di 27 anni ha finalmente trovato lavoro. Ma dove ha trovato lavoro? In un centro scommesso. Quindi sicuramente diciamo un po' di disoccupazione viene creata. Però rispetto ai danni che il gioco d'azzardo sta creando diciamo forse questo è un piccolo prezzo che si può pagare. Quindi è una bolla fondamentalmente che trasferisce i soldi tendenzialmente dalle tasche di chi ne ha pochi e spera col gioco d'azzardo di farseli e di chi ne ha un po' di più e li spende male. Ci sono le ricerche che mettono in rilievo la correlazione tra gioco d'azzardo e inattività. Viene fuori che tra gli occupati a tempo indeterminato gioca il 70% tra gli occupati saltuari un po' sì un po' no gioca l'80% tra i cassi integrati e i disoccupati gioca l'86%. Non vi sto a dire i dati su quali sono i giochi che acchiappano più soldi e quindi sul fatturato eccetera forse vale la pena però di dare un'occhiata a quelle che sono le motivazioni. Dalle varie ricerche e interviste sfatte la motivazione prevalente è vincere denaro. E beh si spiega 73% e dice perché giochi per provare a vincere. Quindi è chiaro che dietro c'è un retroterra di povertà dietro c'è un retroterra di disuguaglianza. Il 32% dice per divertirmi la domanda spontanea che viene ma non ci sono altre modalità alcuni movimenti giovanili impegnati propongono ai giovani di divertirsi diversamente. Il 15% c'è una escalation sul divertimento e dicono per eccitarmi quindi non riescono a trovare altri canali probabilmente altrettanto efficaci di eccitazione il 13% per socializzare che vuol dire che la difficoltà a sviluppare relazioni la solitudine è un dato pesante. Detto questo veniamo al tema di oggi però ci tenevo a contestualizzare perché la punta dell'iceberg non la capiamo se non vediamo tutto l'iceberg e non capiamo come mai questo iceberg si è venuto a creare fondamentalmente. In questo contesto c'è stata la crescita della domanda di aiuto che è stata un'onda lunga che però col tempo sta diventando uno tsunami. Intorno al 2000 quindi all'inizio della deregulation che chiedeva aiuto era ai servizi poche persone qualche centinaio non di più. nel 2014 erano già mal contate 12.376 persone oggi tendenzialmente si stimolano intorno alle 24.000 la punta dell'iceberg rappresenta il 10% di quelli che beneficerebbero di un trattamento perché se non sono giocatori patologici sono giocatori altamente problematici. quindi diciamo abbiamo delle stime della diffusione del disturbo del gioco d'azzardo stime perché in Italia nonostante sia stato creato adesso recentemente l'osservatorio per il gioco d'azzardo le ricerche sono di tipo spannometrico e quindi le stime prendendo dei coefficienti per cui in genere anche negli altri paesi il gioco d'azzardo si colloca intorno all'1,3 2,2% della popolazione di chi gioca noi siamo tra i 400.000 e 700.000 diciamo persone che in qualche modo sono candidabili a un trattamento ma solo da 10% di loro arriva una domanda di aiuto quindi tra i 15 e i 75 anni abbiamo diciamo più di mezzo milione di persone chi chiede aiuto allora bisogna distinguere tra una domanda spontanea sull'onda di quella che poi vi racconterò e viene definita la fase della disperazione del giocatore d'azzardo è una domanda invece non spontanea ma in tecnica esiste spintanea quindi indotta da altri dai familiari che si procurano per il giocatore d'azzardo i familiari sono quelli che tendenzialmente vengono tenuti all'oscuro non è che il giocatore glielo dice devono scoprirlo una serie di indizi li porterà a scoprire che c'è il giocatore d'azzardo in famiglia e in genere lo scoprono quando avviene un incidente critico o di tipo legale o di tipo relazionale a volte anche di tipo sanitario quindi i familiari sono vittime che stanno tra le vittime dirette e le vittime indirette del gioco d'azzardo prima cosa fanno tentano di arrangiarsi da soli con un fai da te di buon senso poi quando vedono che non ottengono risultati allora decidono magari di ricorrere ai servizi e qual è la domanda portata dai familiari cosa posso fare per aiutare se sono i genitori mio figlio venire al servizio cosa posso fare se sono un coniuge aiutare mio marito per venire a farsi aiutare lui quindi un servizio attento non presta solo consulenza ai genitori quindi non li riceve una volta o due gli da qualche istruzione qualche informazione ma in genere li inserisce nei gruppi multifamiliari e quindi rispetto ai genitori che ritengono di avere il problema del gioco d'azzardo in casa e la persona non si fa trattare cominciano in qualche modo ad essere aiutati loro attraverso il meccanismo dei gruppi delle famiglie tendenzialmente dopo una fase di accoglienza con che obiettivo di riuscire da una parte a motivare l'interessato a chiedere aiuto a lui e nello stesso tempo ad acquisire due strumenti che vanno tra l'autotutela e l'aiutare l'altro diciamo quando riescono finalmente a portare spesso tirato per la giacchetta la persona interessata ci troviamo di fronte a un atteggiamento poco motivato chi tra di voi ha fatto studi di psicologia probabilmente è avvezzo a una diciamo modalità interpretativa che in genere si dice che le persone quando hanno una dipendenza attraversano prima una lunga fase di pre-contemplazione del problema cioè della serie io dipendente no io smetto quando voglio una frase di contemplazione quando cominciano a pensare che qualche danno c'è ma non lo vogliono negano minimizzano non lo vogliono prendere in considerazione è una fase di decisione in cui sono lì devo decidere devo decidere a farmi aiutare e poi c'è la fase di azione questi sono tutti in fase tendenzialmente pre-contemplativa o contemplativa qualcuno è riuscito a dirmi sì io sono venuto ma glielo dico subito sono venuto qui per tranquillizzare mia moglie quindi non si metteva in gioco assolutamente per nulla la folta schiera di coloro che vengono tirati per la giacchetta perché sono ancora dipendenti la famiglia sono i giocatori giovani i tardo-adolescenti chiamiamolo così allora qui tendenzialmente è opportuno allestire un doppio setting di accoglienza dopo che tu li vedi insieme inizialmente capisci subito che è molto più utile andare verso un setting disgiunto a volte addirittura già a metà del primo incontro perché davanti a te viene rappresentato il conflitto viene rappresentato la rissa mio figlio spende un sacco di soldi gioca di conti eccetera l'altro non è vero sei tu che sei preoccupata in realtà io faccio come fanno tutti mamma tu stai vivendo in un'altra epoca eccetera allora è meglio separare e quindi accogliere le istanze il punto di vista dei genitori e d'altra parte un altro operatore che ovviamente tratta la domanda spintanea con l'obiettivo poi di riconnetterla con diverse modalità modalità di organizzare un confronto che non sia meramente conflittuale con la possibilità di raggiungere la mediazione possibile in alcuni casi poi se si riesce a costruire nei set inseparati la motivazione di arrivare in qualche caso anche a una terapia familiare questo viene ripeto soprattutto con molti adolescenti che sono restii oppositivi un po' provocatori molto spesso sfidanti e qui guardate molto spesso quello che poi alla fine si capisce è che il gioco d'azzardo per fortuna ancora non portato a livelli di migliaia di euro di debiti è il terreno aggiornato di uno scontro che ha radici più lontane nella precedente età evolutiva e che si esprime con asprezza nella seconda adolescenza e che trova ad esempio nella dipendenza nell'abuso del consumo di gioco d'azzardo l'occasione dello scontro quindi la separazione dei setting ci serve per preparare la mediazione tra le parti e la mediazione tra le parti guardate non è il fine ma poi diventa la mediazione lo strumento che ti consente un trattamento più tranquillo perché le problematiche all'inizio si presentano come polarizzate da una parte i genitori c'è l'iperdrammatizzazione dall'altra i figli c'è la minimizzazione quindi entrambi i punti di vista contrapposti appaiono legittimi come è giusto che sia non so se qualcuno di voi si ricorda quella storiella del giudice rabbino che deve giudicare due contendenti prima ascolta uno lo ascolta lungo e dopo gli dice hai ragione poi il turno del secondo ascolta l'altro ascolta altrettanto lungo e anche lui dice anche tu hai ragione e dalla sala uno alza la mano e dice ma giudice com'è possibile che tutti e due abbiano ragione e il giudice risponde anche tu hai ragione quindi la mediazione è un processo difficile no? e che però implica diciamo accogliere e anche empatizzare con le buone ragioni di ciascuno e farle incontrare fondamentalmente quindi l'approccio che si utilizza è un approccio motivazionale diciamo che poi solo successivamente sfida emette alla prova il dato di realtà che cos'è che si mette alla prova nei ragazzi quando sono ragazzi si mette alla prova la capacità di autoregolazione del gioco responsabile tra virgolette in cambio di che cosa? in cambio di mutamenti nell'atteggiamento nel comportamento genitoriale che vuol dire tendenzialmente meno controlli un po' più di libertà un po' più di fiducia e un po' meno stress da parte dei genitori quindi anche i genitori vengono messi alla prova in questa prima patruzione allora se il maggior controllo della spesa da gioco riesce si ha lo spazio per la correzione delle modalità genitoriali disfunzionali che vuol dire arrivare a una maggiore tolleranza e accettazione dei comportamenti filiali quindi vuol dire arrivare a una riduzione del conflitto e tendenzialmente a un riavvicinamento tra il genitore più legato al figlio nei suoi confronti il genitore più legato al figlio non sempre è il meno ansioso e quindi vuol dire ristabilire una comunicazione non più unicamente basata sul conflitto in cui la casa diventa tra virgolette questa casa non è un albergo diventa l'albergo ma in cui ci si parla di nuovo se prevale invece il discontrollo si apre qui la possibilità di un maggiore confronto col dato di realtà e la terapia motivazionale accetto il tuo punto di vista dici che non spendi tanto dimostriamolo ai tuoi genitori che non spendi tanto se questo non riesce non ce la fa la terapia motivazionale apre un po' lo spazio alla terapia confrontazionale e quindi non ce l'hai fatta il problema c'è cerchiamo di capire cosa possiamo fare per ridurre il tuo comportamento di gioco con i giovani giocatori adolescenti alcuni ancora minorenni altri appena sopra soglia ho visto che siamo su un terreno che non è molto diverso rispetto a quello del fumo di cannabis le dinamiche con i genitori sono le stesse cioè si ripropone in uno scenario differente però una matrice comportamentale da parte di entrambi che è molto analoga ma su questo non mi dilungo perché diciamo il clou del trattamento i grandi giocatori i grandi dissipatori sono i giocatori d'azzardo adulti allora qui è chiaro che si comincia con una fase di valutazione non chiamiamola diagnosi chiamiamola assessment una valutazione un po' più generale che nel momento in cui valuti cerchi di comprendere di capire questa è già parte costitutiva del trattamento il primo atto è l'accoglienza è il tentativo di capire il livello di pervasività della dipendenza come la dipendenza si è costruita nel tempo nella vita complessiva e nelle problematiche complessive della persona che gioca guardate che la dipendenza ha un lungo periodo nel suo costituirsi per tutte le dipendenze ma in particolare anche per il gioco d'azzardo tra la prima giocata le prime vincite che ti portano ad essere un giocatore a rischio e poi essere un giocatore problematico e poi sviluppare una dipendenza conclamata e poi chiedere aiuto dieci anni e per questo motivo che i dati che erano bassi appena è partita la deregulation stanno diventando altissimi adesso perché sta arrivando l'onda lunga dallo tsunami il periodo di latenza in cui si costruisce la dipendenza è terminato allora abbiamo due obiettivi uno quello di agganciare la persona e quindi farla sentire accolta compresa l'atteggiamento quello classico di ogni terapeuta di non giudizio per motivarla banalmente al secondo incontro perché guardate c'è un mordi e fuggi vengo provo ti fiuto ti testo se non mi piace se non mi trovo bene figurteci la prossima volta quindi per dirla col gergo dei giocatori il terapeuta il servizio deve riuscire a vincere la prima mano e la prima mano è il primo incontro fondamentalmente e quindi nel grande racconto del primo colloquio diciamo viaggiamo tra il tentativo di comprendere il più possibile la problematica ma soprattutto la comunicazione di accoglienza di fiducia che se veramente vuoi smettere forse ce la può anche fare ma su questo torniamo dopo c'è un problema di fondo su cui ancora ci si dibatte il gioco d'azzardo è il sintomo di problematiche retrostanti che riguardano la storia personale individuo problemi più di altro tipo eccetera oppure è la malattia qui siamo poi su un terreno di dipendenza che sono le dipendenze comportamentali cioè le dipendenze che non arrivano dall'assunzione di una qualche sostanza che ingeriscono il mio corpo ma semplicemente dall'attivazione di un comportamento che poi le dipendenze comportamentali producono gli stessi effetti delle altre agendo sugli stessi meccanismi neurologici su cui ci sono gli altri ormai le neuroscienze l'hanno dimostrato però la definizione forse migliore di una dipendenza comportamentale è quella di uno psicologo non per la categoria a cui appartengo non per piageria è stato un pillolo americano che dice una dipendenza può scaturire da qualsiasi potente passione quindi vedete come le dipendenze comportamentali che poi azionano gli stessi meccanismi dell'organismo che azionano le altre dipendenze possono uncinare detto in gergo con la stessa forza le persone allora noi tendenzialmente diciamo sulla diatriba sintomo malattie che la dipendenza di per sé quando si staura si configura come una sindrome propria e col progredire del tempo man mano che si irrobustisce si svincola e si autonomizza dalle varie cause che possono averla indotta le cause possono essere ancora attuali o possono anche non essere più attuali ormai il meccanismo della dipendenza viaggia di per sé quindi noi ci troviamo di fronte da una parte alle possibili problematiche di background della persona che possono essere ancora attive condizionanti o meno ma la dipendenza ormai ha spiccato il volo la dipendenza ormai viaggia per conto suo e va trattata per le dinamiche specifiche che la dipendenza genera e quindi in primo luogo cosa bisogna fare in primo luogo bisogna cercare di contenere la carica di distruttività e di autoristruttività che la dipendenza comporta poi quindi il disturbo del gioco d'azzardo è da una parte una sindrome specifica della malattia della dipendenza da una parte però e questo continuiamo anche a dircelo a sua volta il gioco d'azzardo e poi la sua deriva dalla dipendenza è stato il sintomo di una sofferenza e di problematiche personali retrostante non risolte che costituiscono che cosa? Che costituiscono l'altro oggetto della cura quindi noi dobbiamo viaggiare in parallelo non sempre in sincrono dando la precedenza una volta un aspetto una volta l'altro e in primis diamo l'aspetto al trattare la dipendenza ovviamente tenendo presente che dobbiamo gestire le dinamiche della dipendenza cercare di addomesticarle e poi nello stesso tempo se la interpretiamo anche come sintomo cercare di capire che ci sono ancora delle cause attive che in qualche modo la generano non per se stessa guardate i due punti di vista non confliggono questo dobbiamo dircelo chiaro ma anzi sono assolutamente complementari e man mano che si fanno i conti con i comportamenti più distruttivi della dipendenza diventano progressivamente più chiare le funzioni che il gioco d'azzardo ricopre all'interno degli equilibri dell'economia psichica della persona dipendente aspetta al terapeuta il compito di identificarli portarli a maggiore consapevolezza e poi trattarli con un focus specifico in alcune situazioni il focus specifico sarà una terapia di coppia in altre situazioni il focus specifico sarà una terapia dell'evento traumatico subito in anni precocissimi e così via quindi cogliere la dipendenza nel suo specifico nella sua funzione come una tesi su cui ormai molti concordano la dipendenza molto spesso svolge anche una funzione di autocura del soggetto ce lo diceva Cansian e quindi qual è la seconda funzione la seconda remunerazione a dipendenza la prima ovviamente il piacere siamo sul registro hedonistico se dovessi raccontare ho riportato qualche frase ma diventa lunga pensavo di aver 4 ore poi ho scoperto che non avevo 2 e quindi ho dovuto un po' ridurre e vi dicono in questo mondo in cui si è immersi ipnotizzati davanti alle slot machine so chi ha già incontrato Mauro Croce l'avrà raccontato benissimo tutto questo aspetto eccetera e da una parte quindi bisogna che noi cerchiamo di cogliere la seconda remunerazione non è quella del piacere ma è quella di che cosa la dipendenza sostituisce ha sostituito in maniera funzionale qualcos'altro che non funzionava come avrebbe dovuto funzionare per lo meno nelle aspettative delle persone quindi già nella fase di assessment giocano un ruolo fondamentale i momenti di restituzione forniti dal terapeuta e non solo a fine del colloquio ma durante il percorso ci sono ancora alcune scuole io ho avuto un collega che diceva io fino al quinto colloquio sto zitto nel senso che devo conoscere devo farmi raccontare in situazioni di questo tipo il drop out è altissimo il drop out è altissimo perché soprattutto con pazienti dipendenti la cui tolleranza la frustrazione è diciamo un po' ridotta e in cui l'impulsività invece è maggiorata quindi il vantaggio delle restituzioni subito appena si può forniscono al paziente le informazioni che gli danno in primo luogo la sensazione di controllare la situazione so cosa sta succedendo se le restituzioni sono accettate so di fare la cosa giusta nel posto giusto in risposta al mio bisogno quindi la restituzione rafforza la percezione di competenza del terapeuta che qui siamo in un circuito lacaniano diciamo che è presupposto sapere io vado da lui perché presumo che lui sappia abbia delle capacità che io non ho e quindi io ricorro a lui però questa fiducia iniziale questo transfer iniziale non è illimitato viene messa alla prova in particolare da questo tipo di utenti e quindi cercherò la conferma o la disconferma rispetto a questa sua capacità e la restituzione se ben fatta è un veicolo di competenza io che vengo dalle tossicoliperenze dure non che il gioco d'azzardo non sia una tossicoliperenza dura la tossicoliperenza d'azzardo è una tossicoliperenza tra i più gravi quindi eroina cocaina eccetera per i guasti che i danni che in qualche modo provoca c'era una lezione che arrivava dalla Francia da Claude Oliverstein che diceva guardate che siccome dobbiamo vincere la prima mano è importante che il terapeuta si mostri assolutamente competente che il servizio sia un servizio non dico bello come la mole vanvitaliana ma che vada un po' nella direzione di allestire dei luoghi che siano confortevoli e piacevoli che sappiano fare in modo di incentivare anch'essi il trattamento Oliverstein diceva io come medico vengo sfidato sulle mie competenze farmacologiche loro tossicolipedenti di strada che hanno provato di tutto conoscono tutto su loro pelle vogliono sapere se io sono in grado di maneggiare i farmaci che loro mi chiedono e mi sfidano di sopra pensate un assistente sociale non so magari un po' giovane sui 25 anni che si trova davanti un 45 anni che ne ha visti di tutti la sfida cos'è? è sulle tue competenze di vita ma tu così ne sai che non hai ancora vissuto allora capito che il mostrare la competenza è fondamentale nel creare la situazione di aggancio iniziale per quello da questo punto di vista se le restituzioni restituiscono competenza le restituzioni agganciano e quindi ti fanno vincere la scommessa del primo incontro vabbè è chiaro che il secondo obiettivo accogliere il primo obiettivo il secondo obiettivo è comprendere i primi incontri è chiaro che bisogna capire la dimensione specifica del disturbo del gioco ad azzardo quindi ci sarà un'anamnesi specifica bisogna capire quali sono i fattori sistemici quindi di contesto relazioni eccetera quali sono i mediatori potenziali del trattamento quindi la motivazione il senso di autoefficacia la mappa degli errori cognitivi specifici e le eventuali comorbidità molto spesso chi gioca ad azzardo sicuramente 98% dei casi fuma tabacco a volte qualcos'altro sicuramente beve anche abusa quantomeno e poi c'è una comorbidità non solo crociata con altre dipendenze ma con problematiche più d'ordine mentale più di tipo da sofferenza psichica allora fatto questo bisogna scegliere se siamo un servizio qui bisogna essere una mini equip da solo non ce la si fa io stimo molto quei terapeuti privati che quando sono di fronte all'indipendenza dicono ok io ti tratto però ti rivolgi anche al servizio ok perché il mio capo Don Luigi Ciotti lavoro in gruppo Vene l'ha detto in introduzione la prima cosa che dice guardate su questi problemi nessuno può pensare di essere un navigatore solitario il navigatore solitario è costretto al naufragio non va da nessuna parte quindi o sia una squadra che collabora insieme o altrimenti i risultati non si ottengono all'interno di una squadra bisogna capire chi si occupa fa un po' il referente della situazione del caso questo dipende da che cosa in base a cosa la prendi questa decisione dalle preferenze dell'utente che si trova magari meglio con un operatore piuttosto che un altro dalle preferenze dell'operatore no guardi quello proprio non è il mio tipo vacci tu dalle competenze specifiche rispetto a quella che è la scelta trattamentale prioritaria bisogna contenere il sintomo bisogna contenere diciamo la spesa il gioco compulsivo eccetera magari più adatto un operatore che un altro e poi infine molto spesso sono anche decisive le problematiche organizzative del servizio però chi conduce l'intervento prevalente è anche colui che fa da regia dell'intervento quindi monitorizza fondamentalmente la congruenza di tutti gli interventi degli altri collaboratori coterapeuti per questa presa in carico che si dice tendenzialmente congiunta primo scoglio supponiamo che abbiamo vinto la prima scommessa primo incontro la persona torna la problematica dura successiva a cui ci troviamo di fronte è gli aspetti di ambivalenza della persona che ha fatto la domanda d'aiuto perché guardate la domanda d'aiuto è sempre ambivalente nelle persone dipendente anche quando è spontanea anche quando è sinceramente direi motivata perché da una parte la persona che viene al servizio viene perché vuole smettere di giocare dall'altra parte però vorrebbe tanto continuare a poter giocare ok quindi è fisso tra questi due aspetti e diciamo la spinta a voler giocare gliela dà questa dimensione che oggi tendenzialmente si chiama crevin che unisce le spinte psicologiche con quelle fisiologiche che in qualche modo a cui viene consegnata la mancanza del comportamento da realizzare quindi diciamo quando il giocatore d'azzardo usa una frase militare si consegna ai servizi riconoscendo la sconfitta personale della sua battaglia illusoria smetto quando voglio e accetta la resa ahimè però arriva ai servizi punto di arrivo quando fanno una domanda di aiuto qualcuno dice che siamo già al 50% del discorso però attua la scissione quindi delega agli operatori il suo desiderio e a volte anche le sue capacità di sbettere e tiene per sé la voglia di giocare e con questa sua voglia sfida gli operatori guardate arrivano quando la mia compagna mi ha comunicato la sua intenzione è separarsi quando non potevo più fare prestiti in banca quando una sera sono venuti i carabinieri perché ero fuori di me volevo farla finita non ce la facevo più poi non è solo una questione del gioco ma è che devi affrontare tutti i tuoi misfatti e gli operatori come li vedevo gli operatori li vedevo all'inizio come dei nemici coloro che tu sei andato per smettere di giocare e loro a questo punto sono quelli che invece vogliono farti smettere di giocare c'è un gioco delle parti in questa proiezione della scissione quindi ai terapeuti viene consegnata ed è legata la funzione di contenimento del craving il quale viene tenuto per sé cercando di agirlo contro di loro e guardate questa dissociazione si attenua ma accompagna pressoché tutto il percorso della terapia quindi ne segna le crisi le regressioni segna le ricadute segna gli allontanamenti temporanei del servizio segna l'aggressività agita a volte nei confronti degli operatori segna a volte l'abbandono definitivo lo perdi quindi lo sforzo degli operatori corre sull'equilibrio sottile della ricomposizione di questa scissione perché la persona si riappropi per quanto ce la fa della responsabilità del proprio comportamento quindi il primo obiettivo in questo lavoro è limitare quello che in gergo si dice il drop out che la perdiamo che non venga più il cosiddetto mordi e fuggi vado al servizio vedo non mi sono trovato più di tanto mi costa fatica non vado più poi sono di noi in crisi vado ad un altro servizio non so più andare in le porte girevoli come si dice in gergo quindi bisogna allearsi subito se ce la facciamo con quelli che sono le reali motivazioni iniziali del paziente che magari inizialmente è molto ambizioso nelle sue dichiarazioni roboanti noi dobbiamo fare molto Don Quixote ecco ma ce la facciamo raggiungere un obiettivo di questo tipo c'è forse un obiettivo un po' più realistico che sia più facilmente raggiungibile più alla portata che magari ci mettiamo meno tempo quindi l'atteggiamento motivazionale è cercare di capire al di là di quello che sono i desideri reali del paziente qual è l'effettiva motivazione che lo sostiene e non possiamo distaccarci molto dal dato in realtà i contadini hanno una bella espressione per dire guardate il palo si pianta là dove c'è la vita ok non puoi portarlo troppo in là perché altrimenti la vita non cresce questo è fondamentale se abbiamo l'obiettivo su cui ormai tutti i servizi condividono la necessità che è quello della ritenzione in trattamento ritenzione in trattamento come primo obiettivo della cura che è tra l'altro tra gli indicatori prognostici più favorevoli più una persona sta in trattamento più ha la possibilità quantomeno di evitare gli esiti sfavorevoli e il trattamento dei giocatori d'azzardo in analogia con altri trattamenti di altre sostanze ad esempio i cocainomani è un trattamento relativamente più breve ad esempio rispetto alle dipendenze dell'eroina il primo motivo è che qui manca un farmaco specifico non c'è nessun sostitutivo come per l'eroina e il metadone che in qualche modo ti venga incontro quindi ahimè il trattamento è soprattutto psicosociale quindi affari di psicologi educatori assistenti sociali con anche l'ausilio del medico e infermiere ma in questo caso loro stanno un po' di più nel retro bottega ma dicevamo e qui arriviamo il dunque che arrivano soprattutto nella fase di disperazione spesso i servizi quando la domanda è spontanea arriva il giocatore d'azzardo non il suo familiare arriva nella fase di disperazione è stato Custer nel 1984 a sistematizzare le quattro fasi del percorso di addiction dell'azzardo dice prima c'è la fase giochi per divertirti improvvisamente vinci ti capita giocando ogni tanto qui e là di vincere e trasforma il primo approccio ludico in un progetto di far soldi tramite l'azzardo giochi per divertirti ogni tanto finché una volta vinci secco ti accorgi che giocando puoi vincere e fare qualche soldo questa è la prima fase la seconda fase invece è quella dell'esperienza delle perdite l'idea di volersi rifare se hai perso la cosiddetta rincorsa continua delle perdite subentra un'illusione risarcitoria per cui si gioca con maggiore frequenza intensità e con scommesse più alte che sono i tre indicatori di rischio che stiamo andando verso un uso problematico più frequente più tanto tempo più soldi che spendo e qui ti accorgi che perdi stai andando sotto giochi per rifarti magari vinci ma non abbastanza per sentirti impari e continui a giocare più perdi e più rincorri la perdita sperando poi finalmente di rifarti la volta buona terza fase è la fase della dipendenza ormai instaurata che ruba al tempo le persone che calamita in maniera ossessiva il pensiero di giocare che è pervasivo che sottrae la persona alle altre attività che brucia man mano i rapporti e le relazioni ci si indebita e si perde progressivamente la cura di sé c'è un aneddoto sapete perché il panino si chiama sandwich perché deriva da John Sandwich che era un giocatore d'azzardo al casino che non riusciva a staccarsi dal tavolo verde diciamo durante la giornata ogni tanto gli veniva fame un panino per favore e a che maniere prepariamo un panino per il signor sandwich poi un panino per il signor sandwich diventava troppo lungo è diventato un sandwich e di lì ha preso il nome del panino lo stress questo per simbolizzare fondamentalmente lo stress e il venir meno dalla cura di sé quindi quando il meccanismo additivo si staura lo svago e il divertimento sono stati ormai sostituiti da altre emozioni forti sono emozioni forti che sono le emozioni della sopravvivenza quindi delusioni brucianti per aver perso più del previsto paura di dover renderne conto eccetera eccetera la sfida che si ingaggia per non uscire sconfitti da quello che ormai hai percepito come un combattimento tra te e la macchinetta e in tutto ciò ci si sente però vivi accesi eccitati e connessi ma con la macchinetta questo aspetto apre poi alla fase della disperazione quando il giocatore ha mai perso tutto ciò che possedeva si è indebitato con banche con finanziarie talvolta con gli usurai e qualcuno si è venduto come capita la casa all'insaputa della moglie qualcuno quando non ha più neanche un soldino per andare a giocare è capitato ha scassinato il suo vadanaio dei propri figli per prendere qui pochi soldi per andare a giocare qualcuno si è venduto la fede al compror quindi nella fase di disperazione diciamo c'è un sentimento di irreparabilità delle ripercussioni relazionali legali sulla propria vita disastro economico eccetera qui al posto dell'ansia che attanaglia molto spesso il giocatore che deve vincere subentra l'angoscia quindi molto più profonda si prende in seria considerazione l'idea del suicidio il record del suicidio non a caso ce l'ha una città nel mondo che si chiama Las Vegas qualcuno che non ce la fa a suicidarsi per fortuna comunque continua a aver voglia di sparire questo è l'aggettivo il verbo che compare di più pur di sottrarsi alla situazione in cui è finito pur di sottrarsi alla vergogna pur di sottrarsi alla colpa e dice non ho mai pensato al suicidio ma di scappare e di sparire sì per il male che ho fatto alle persone che mi stanno intorno vedere star male mia mamma a casa mia lei che ha fatto così tanto il bene più grosso che posso fare è che io non mi faccia più vedere quindi aggiusta il suo problema pensando di aggiustare quello di sua mano sparire la fuga la prima soluzione è la fuga all'interno della fuga la soluzione più disperata ovviamente è il suicidio ahimè però i tassi di suicidio sono quattro volte superiori tra i giocatori che è una popolazione normale altra uscita dalla fase di disperazione molto spesso nello sparire è contemplata anche la carriera criminale non riesco a restituire i miei soldi e gli usurai faccio parte dell'organizzazione vendo i miei servizi vendo le mie relazioni mi metto dentro ma per fortuna c'è la quarta via d'uscita che la confessione tra virgolette di tutto quello che è successo tutto tutto è la richiesta d'aiuto diciamo sono le forche caudine l'umiliazione del dover rivelare proprio tutto alle persone che ancora ti stanno vicino per poter chiedere il loro aiuto persone che sono tra l'altro le più pesantemente danneggiate dal tuo comportamento e qui si apre se chiedi aiuto la fase della rivelazione e del possibile coinvolgimento familiare il profilo del giocatore patologico grave quello da decine e decine di migliaia di euro se non centinaia maschio di mezza età con un reddito non necessariamente da lavoro padre di famiglia l'ammanco economico è sulle decine di migliaia di euro a fronte di bilanci familiari che poi viaggiano se tutto va bene tra l'uno e l'altro se qualcuno in più lavora sui 3000 euro quindi questo è un momento topico sono state bruciate tutte le risorse si è sotto il peso del fallimento personale si ha ormai un disprezzo di sé e quindi se si decide che nel bivio trasparire e dire si dice bisogna dire l'inconfensabile tutto quello che era stato mantenuto segreto viene rivelato fino e qui bisogna insistere all'ultimo dettaglio perché se non viene fuori tutto è bene far venire fuori tutto la tra virgolette confessione deve essere totale ed esauriente senza lasciare straschi di non detto perché se dopo cinque mesi che le cose vanno bene avrai anche quell'altro debito mi ero dimenticato è una nuova mazzata che arriva quindi se si deve fare che si faccia tutto perché la difficoltà è che nel mettersi a nudo verso coloro che sono stati traditi e a cui si è sottratta la sicurezza del presente e ahimè forse anche di un po' di futuro che viene dopo richiede fare i conti con due sentimenti basici che si chiamano vergogna e colpa ok e ogni confessione comporta una qualche penitenza la confessione viene remunerata subito perché è accompagnata da un disperato bisogno di liberazione che viene finalmente realizzato quindi io mi sollevo da questo macigno pesante del segreto con la vergogna e la colpa che lo accompagnano se si è inermi rispetto alle proprie vittime ignare e tradite che stanno ascoltando cosa è successo se ne teme fortissimamente la reazione le conseguenze qual è il terrore del rivelare è di essere abbandonati la condanna qual è? è rimanere soli senza mezzi pur nella consapevolezza che a quel punto c'è piena di essersi tra virgolette meritata quindi si attende di capire come reagisce la famiglia tra virgolette qual è il suo verdetto che ovviamente è una variabile dipendente dall'entità del contraccolpo subito l'entità del danno dal ricordo della qualità delle relazioni che hanno preceduta che hanno preceduto la cosiddetta metamorfosi del giocatore e quindi anche quanto sul piatto la compassione si oppone a quello che è anche una pulsione naturale di vendetta di odio di disprezzo e quindi si fa poi una valutazione di insieme poi nella famiglia ci sono anche i figli sapete la difficoltà di molte donne che vorrebbero separarsi dai propri mariti sì io lo farei ma tolgo anche un padre e i loro figli quindi si aprono considerazioni che vanno anche molto di là però se la vita familiare ottiene un'altra chance nonostante tutto se la liberazione della confessione sottende un pentimento veramente sincero l'atto pubblico del rivelarsi può costituire l'inizio del percorso di cura e della riabilitazione per stare in tema di cum festival e l'inizio della resurrezione nel secolo diciamo nel corso dei secoli nel solco della nostra tradizione giudaico-cristiana il pentimento può con l'espiazione dar luogo al perdono il perdono di chi rimane vicino richiede però una promessa la promessa del cambiamento il cambiamento quindi assume per rimanere sempre in questo registro terminologico assume i caratteri di una conversione il grande dissipatore espia attraverso un lungo e faticoso percorso di cura con un passo da formichina quello che è stato il suo danno recato quindi viene ridimensionato nell'ordinaria quotidianità da cui aveva tentato di evadere col gioco d'azzardo il grande dissipatore smette le sue vesti e si ingaggia in un impegno costante che ha un unico obiettivo mantenere il comportamento di rinuncia questa è la sua pena e la sua fatica quindi l'impegno che invece si riversa in molteplici attività se ce la facciamo quotidiane doveri di tutti i giorni in cui riscopre piano piano e questo è anche un obiettivo terapeutico il piacere e il senso della quotidianità che risponde però anche a una grande direi mission di contesto che è rimettere i propri debiti non solo economici ma di relazione e di fiducia in cambio se ci si riesce avrà come ritorno che cosa? una ricostruita e un po' più degna immagine di sé il psicologi dice un'autostima che si riprende un po' e una ritrovata serenità familiare guardate questo lungo cammino di cura è la cruna d'ago attraverso la quale passa la riabilitazione di tutte le persone dipendenti gioco d'azzardo sex addiction sostanze psicoattive e così via alcol quindi per le persone tossicodipendenti la cruna d'ago è rappresentata dalla comunità terapeutica 18 mesi autosegregato in cui ogni giorno devo esprimere la mia volontà di rimanere autosegregato per gli alcolisti sono anni e anni di club di alcolisti in trattamento o di frequenza degli alcolisti anonimi dove ti dicono che tu non potrai mai guarire puoi solo rimanere sul chi va là e se rimani sul chi va là è un processo di recovery per i giocatori d'azzardo la lenta riparazione di una comunità familiare lesa e anche sociale che è stata tradita con i pagamenti tra l'altro graduale e progressivi dei tanti debiti di soldi contratti infatti il ripianamento dei debiti economici fa parte del programma riabilitativo restituire il debito scandisce tra l'altro tutto il lungo tempo della cura perché i debiti sono tanti e restituirli richiede anni però rifonde tranquillità e restituisce speranza alla famiglia si erge come segno pubblico di una riguadagnata stima sociale il disturbo del gioco d'azzardo che affonda le proprie radici diciamo nelle dinamiche individuali nella storia di ciascuno e che nel percorso di cura come abbiamo detto vanno rintracciate e trattate non può fare a meno però di un confronto pubblico con le stigmate della colpa e della mancanza di responsabilità di quindi una onorabilità sociale andata perduta e che è da riconquistare soprattutto all'interno della famiglia spete che in genere dicono che sono tre le gambe che tengono in piedi il tavolo della coppia sono la stima che tu hai della persona con cui stai assieme che sono il senso di sicurezza che l'unione ti dà non solo economica affettiva eccetera e la sessualità se viene meno la stima e se le altre sono un po' tra ballerine il senso di sicurezza è stato demolito dal giocatore d'azzardo la sessualità molto spessa con la conflittualità si perde allora capite che sulla stima è possibile riguadagnare un po' di fiducia lo stigma è interiorizzato e quindi a diverso livello ovviamente per ognuno dei giocatori patologici però l'interiorizzazione della condanna sociale costituisce un tratto comune nella riabilitazione mi sono trovato di fronte a un caso in cui un paziente continuava a chiedere al servizio mettetemi in raccordo con una serie di associazioni che lavorano sui debiti perché io devo restituire i miei debiti e il servizio dava un'interpretazione sbagliata è fissato con restituire i debiti perché non vuol vedere le cause profonde del suo malessere non accorgendosi che se lui riusciva a restituire i debiti attraverso l'azione in restituzione trasformava il senso di colpa persecutorio in senso di colpa riparativo e quindi in qualche modo stava meglio e lì però c'è stato l'abbaglio da parte del servizio tenete presente che i servizi competono già tante cose quindi stendere la rete di protezione nella fase di disperazione rendere possibile la piena confessione liberatoria mediare con la famiglia ribadire alla famiglia l'aspetto di malattia della dipendenza negoziare i debiti di gioco nei limiti sostenibili attraverso alleati su questo supportare il percorso e le fatiche della rinuncia quotidiana del giocatore che è un basso livello di tolleranza e frustrazione alimentare soprattutto nella famiglia oltre che nell'interessato la speranza del cambiamento contro le crisi ricorrenti entrare nel merito delle dinamiche familiari che molto spesso precipitano nelle solite rintracciare gli squilibri che stanno dietro e che hanno facilitato l'instaurarsi la dipendenza continuare a lavorare perché la famiglia fruisca di un contesto supportivo allargato affinché non rimanga sola con le sue difficoltà quindi i servizi bisogna essere almeno in due se non in tre lavorano in tutto campo ma il primo compito è quello di sostenere la scelta di rinuncia se non fai quello se la persona non tiene salta tutto salta di nuovo il banco quindi rafforzare la motivazione dell'astinenza e allestire il contesto possibile di rinforzo quindi se il giocatore non tiene salta il patto con la famiglia e quindi salta la possibilità di fruire di un'altra chance bisogna fare per ottenere questo risultato anche un lavoro sporco il lavoro sporco consiste nel controllo del portafoglio del giocatore controllare il suo portafoglio controllare il suo bancomat questo richiede il coinvolgimento di altre persone lui da solo non ce la fa quindi questa è una funzione di per sé oggetto di molte ambivalenze e diventa il punto di precipitazione anche di molte proiezioni aggressive quindi la scelta del controllore di chi svolge la funzione del controllo richiede un'attenta valutazione clinica perché apre a un'inevitabile dinamica conflittuale tra controllore e controllato che possono calamitare su di essa istanze spurie pregresse e che prescindono dalla stessa funzione specifica allora a volte è molto meglio che questa funzione se la prenda un amico che è un po' più esterno che è un po' più fuori dalle dinamiche familiari che non vive a stretto contatto con la persona piuttosto che il partner piuttosto che i genitori piuttosto che i figli in casi estremi si ricorre all'amministratore di sostegno arrivare all'amministrazione di sostegno richiede una pratica non facilissima c'è un po' strategica iniziale fondamentale perché se riesce costruisce l'auto-efficacia il senso di auto-efficacia della persona che sente di farcela e alimenta la sua speranza del cambiamento ridà fiducia all'intero sistema familiare che in questo modo ricompatta e sperimenta una nuova coesione al tempo stesso la tenuta del giocatore sull'astinenza del comportamento da gioco consente e come vi ho detto anche qui di trasformare la colpa da persecutoria a riparatoria sto facendo mi faccio il mazzo faccio fatica ma vi dimostro che ed è più tranquillo sul senso di colpa quindi diciamo la messa alla prova del comportamento astinente riduce le ansie rallenta le tensioni smorza i conflitti apre ad ulteriori mediazioni complessive ma soprattutto anche sul controllo stesso piano piano viene ridata fiducia al giocatore che potrà disporre non solo per i soldi dell'autobus per il sandwich o per le spese proprio essenziali basiche tutto questo abbiamo detto gioca un ruolo fondamentale anche a livello pubblico il piano di rientro del debito perché ridurre la pressione finanziaria significa ridurre lo stress della persona in cura e bisogna fare un'analisi dettagliata di tutta la situazione debitoria che è molto sparpagliata vanno dagli amici conoscenti parenti conoscenti più vicini conoscenti più lontani banche più di una banca finanziari e più di un finanziario usurai quindi è sparpagliatissima quindi bisogna tenere la mappa dei debiti e si programma in base alla gravità dei debiti contratti quindi per ogni singolo debito bisogna attribuire un indice di gravità e definire quindi la priorità delle restituzioni con i creditori si negozia a Torino non so qui disponiamo di un'associazione di volontari più pensionati che avevano operato come professione della finanza e sono messo a disposizione un'associazione una casa si chiama la scialuppa per negoziare con le banche le finanziarie quelli dicono ti deve 120.000 euro rischi di non vederli mai se ne vuoi vedere 70.000 noi garantiamo per un rientro e quindi si negozia l'entità del debito si negozia la ratterizzazione del debito e questo lo si fa con le banche con le società finanziari ma con la persona e la sua famiglia si apre un altro registro che non è più quello dei debiti ma quello delle entrate e delle spese e si ahimè qui si si apre un discorso di austerity economica in questa situazione che riguarda tendenzialmente tutta la famiglia i consumi di tutta la famiglia cercando di mantenere alcune clausole di salvaguardia soprattutto nei confronti dei figli che non devono vedere mutato troppo la loro vita per quello che è successo allora da una parte la restituzione del debito così concepita riconferisce abbiamo detto dignità e serenità dall'altra parte però è dura per tutti e quindi crea anche tensioni e insoddisfazioni che devono essere dal servizio monitorate e accompagnate quindi vedete come il servizio lavora a tutto campo quindi su questo sull'importanza di restituire il debito a livello sociale a livello individuale connesso con la colpa con la riparazione eccetera termino qui le dipendenze omologano i comportamenti di tutte le persone che ci finiscono dentro come dire tutte le dipendenze obbediscono a delle logiche comuni che fungono da matrice a tutti i comportamenti di addiction quindi c'è un'omologazione ai comportamenti quando si è diventato dipendente si diventano tutti un po' più bugiardi tutti un po' più manipolatori tutti un po' più egoisti più menefreghisti tutti un po' più aggressivi perché bisogna di soldi eccetera eccetera non mi dilungo su questo dopo è scontato aspetta però invece scovare le differenze io l'avevo imparato occupandomi a suo tempo di toscicamenti di eroina quando un ragazzo mi diceva sì io spaccio però spaccio erba non spaccio eroina lui voleva dimostrarmi il suo codice etico così una ragazza quando dice guarda io rubo mica mi prostituisco voleva dimostrarmi che il suo processo di degradazione aveva dei paletti io devo entrare in questa logica delle differenze la clinica è una clinica delle differenze e quindi è chiaro che poi al di là dei comportamenti omologati tu devi andare a vedere quali sono le differenze che ci stanno dietro allora qui sul gioco d'azzardo la letteratura ci dà dei contributi c'è un autore non provate a scriverlo perché è impossibile ma anche pronunciarlo difficile che nel 2000 ha tracciato nel cercare di cogliere le differenze tre ideal tipi tre tipizzazioni di persone di giocatori d'azzardo patologici che vengono a chiedere aiuto il tipo A sono i giocatori puri che non hanno doppia diagnosi quindi non hanno dipendenza da alcol particolare non hanno non stanno male dal punto di vista psichico mantengono delle relazioni nonostante tutto ancora un po' adeguate si dimostrano adeguati anche sul trattamento tengono il trattamento sanno trarre vantaggi dagli interventi psicoeducativi si rendono conto e poi ne parliamo delle distorsioni cognitive che ha generato il comportamento da gioco dispongono soprattutto di una struttura di vita ancora integrata non hanno perso il lavoro mantengono ancora delle attività degli interessi e una struttura di vita integrata per uno che smette è un aiuto fondamentale nel recupero perché altrimenti bisogna inventargli una nuova struttura di vita e i servizi non ce l'hanno spesso le risorse quindi questo per sottolineare che non è un lavoro il trattamento solo da psicologi è un lavoro agistenti sociali degli educatori i familiari si fanno coinvolgere nella terapia il trattamento si configura generalmente come abbastanza brevi diciamo tre, sei mesi più follow up e beneficiano di una pronesi più favorevole con loro per chi è psicologo funziona di più l'approccio cognitivo comportamentale tipo B i giocatori secondo Bleszinski invece non puri che non hanno solo quel problema lì ma che hanno anche una vulnerabilità affettiva quindi sono più affettivamente diciamo dal punto di vista dell'umore sono più labili hanno biografie con infanze costellate da episodi traumatici violenze fisiche a volte anche abusi sessuali manifestano disturbi d'ansia e depressivi c'è molto spesso un abuso alcolico che si incrocia con la dipendenza del gioco hanno delle relazioni sociali impoverite spesso sono isolati non possono avvalersi di un sostanziale proficuo aiuto familiare qui il trattamento è più lungo molto spesso l'adeguatezza la compliance alla cura è pregiudicata dai loro stati depressivi e quindi non tengono molto il trattamento e attono di più quella dissociazione di cui abbiamo parlato prima non basta l'approccio cognitivo comportamentale sono necessari qui anche altri strumenti bisogna potenziare la squadra quindi cura quindi terapie di tipo espressivo un sostegno a favore di una maggiore socialità e una maggiore integrazione sociale e talvolta anche una farmacoterapia mirata all'aspetto di comorbidità ok infine la terza tipologia di Blezischi sono i giocatori impulsivi e antisociali per lo più affetti da disturbi di personalità che sono i soliti quattro antisociale borderline narcisistico e estrionico ci sono marcate difficoltà nel controllo degli impulsi nella NAMSI molto spesso diciamo abbastanza frequentemente si può riscontrare un disturbo da deficit di attenzione e di iperattività quando erano bambini le carriere precoci come giocatori d'azzardo sono affiancati da vicende diciamo adolescenziali di più generale disadattamento spesso usano sostanze psicoattive legali e illegali c'è una minore aderenza alla cura con dei tropauti abbastanza precoci la prognosi è più sfavorevole ovviamente poi altri autori hanno detto che tra il tipo 2 i labili effettivi e il tipo 3 gli antisociali impulsivi c'è abbastanza poi sovrapposizione c'è un collega Bellio Veneto che su un campione italiano di 172 giocatori trattati tanto per darvi una stima di come si distribuiscono lui dice guardate giocatori puri sono il 30% gli emotivamente vulnerabili sono il 20% gli impulsivi gli antisociali sono il 50% per lo meno quelli che sono giunti a quel servizio lì di Castelfranco Veneto quindi dobbiamo orientare il trattamento sulle vulnerabilità più specifiche una micro una prima macro scusate distinzione riguarda il trattamento delle donne il trattamento dei giovani il trattamento degli anziani primo dato sulle donne è che accedono meno ai trattamenti anche se ormai si stanno avvicinando ad essere quasi la metà dei giocatori le donne perché perché su di loro c'è più stigma sociale per tutte le dipendenze per le donne c'è più stigma sociale perché quindi introiettono di più il senso di vergogna di colpa che è più pesante e viene più introiettato e poi la classica paura che le stende sociali conoscono benissimo la paura che se si sa ti tolgono i figli e quindi non vai ai servizi colpite sono soprattutto le donne di mezza età la dipendenza subentra all'interno di un ciclo di vita che tendenzialmente non voglio generalizzare ma a volte spesso si incontra la cosiddetta sindrome del nido vuoto come non diversamente da molte donne che nella mezza età diventano alcoliste che hanno perso di significanza l'alcolico l'amaretto che sta in credenza viene progressivamente sempre più abusato io mi ricordo un professore di Trieste da cui ho fatto un po' di formazione sull'alcol dipendenza mi diceva ma sai da cosa io riconosco in maniera più precoce le donne alcoliste prima che chiedono il trattamento tutti i miei tentativi sono altri buchi no dalle radiografie no ma scusa l'alcol non si vede dalle radiografie no l'alcol no ma le semifratture alle costole quindi non tengono l'equilibrio cadono in casa di nascosto non dicono niente e a me genera un sospetto e in molti casi aveva ragione ma non mi dilungo su queste cose qui per dire solo che la presa in carico non può prescindere per molte donne in maniera più diciamo marcata che per gli uomini dalle insoddisfazioni relazionali e da un retroterra di vuoto affettivo chiamiamolo così c'è un'indicazione che emerge abbastanza nuova è di non mettere nei gruppi terapeutici le donne insieme agli uomini rischiano di soccombere di non osare a dire di vergognarsi e quindi meglio fare gruppi terapeutici al femminile anche perché a volte abusi fisici e emotivi di tanto tempo fa non sono facilmente raccontabili per i minori sapete che il gioco è teoricamente proibito le motivazioni sono le emulazioni del gioco tra pari l'eccitazione il rischio l'illusione di fare i soldi qui sui minori diciamo che la loro carriera precoce dei giocatori molto spesso anche qui è segnata da difficili vite familiari e sociali molti giocatori precoci quindi adolescenti stiamo parlando che arrivano ai servizi manifestano non solo l'impulsività come tratto prevalente ma anche disturbi della condotta e quindi agiti comportamentali in tutto campo se le donne andavano più inserite nel tipo 2 di Bleginski gli adolescenti di questo tipo vanno inseriti più nel tipo 3 quindi impulsivi antisociali la loro richiesta di trattamento è limitatissima o vai tu incontro o loro non vengono se vengono sono spintanei funziona il completo anonimato se sono buoni navigatori internet tanto offre l'offerta di gioco online tanto attraverso alcuni siti puoi in qualche modo interloquire con loro quando hanno paura di esagerato vanno su alcuni siti internet e ti tracciano il tuo profilo di dipendenza se c'è una dipendenza il tuo profilo di rischio completo anonimato se poi dal mezzo meccanico prestabilito puoi passare alla conversazione sempre via chat tramite internet questo è uno strumento che si sta rivelando utile la terza area di fragilità sono gli anziani sapete che gli anziani abbiamo una crescita tumultuosa in Italia gli over 65 sono ormai 13 milioni 400 mila cioè quasi un quarto della popolazione italiana 22% hanno un reddito tendenzialmente sicuro magari non tanto alto la pensione e quindi sono un target dell'azienda del gioco c'è una ricerca dello CNEPS del 2015 su un campione abbastanza vasto 24 mila anziani che dice che un anziano su cinque è a rischio di isolamento sociale e presenta sintomi depressivi questo cosa vuol dire che c'è un bisogno di socialità per perdita di ruolo non è più lavoro a volte magari si è rimasto vedova c'è un bagaglio emotivo da risvegliare per la perdita progressiva delle fonti di gratificazione che l'età può comportare e ci sono anche dei sogni da alimentare che a quell'età rischiano di essere più illusioni per contrastare la routine piatta e monotona guardate che il target degli anziani è dimostrato un'altra ricerca che dice che tra coloro che dichiarano di spendere di più di 150 euro settimana che vuol dire che per alcuni anziani poveri nel mese ti giochi la pensione c'è il 28% di costoro che dichiarano di spendere più di 150 euro settimana sono pensionati quindi se gli over 65 sono il 22% quelli che giocano più di 150 euro sono il 28% il disturbo del gioco d'azzardo segue quindi i percorsi dell'inattività della percezione di insignificanza della povertà relazionale e della solitudine ci sono tre scatti fotografici tipici degli anziani quello che sta sulla panchina seduto da solo col proprio cane quello che sta affacciato alla finestra a vedere la gente che passa nella strada la vita che scorre e infine c'è l'ultima quella che sta intontito da uno slot machine continuando a mettere monetine ok allora il trattamento prevedono la riconnessione per quanto possibile con la rete familiare che rimane in particolare i figli si ci sono con i fratelli e le sorelle più dure per un sostegno relazionale per un controllo ovviamente del sintomo e poi la riproposizione di attività risocializzanti che contrastino la solitudine e la perdita di significato come gruppo Bela abbiamo fatto una buona alleanza con l'Hauser abbiamo fatto una ricerca gioco d'azzardo anziani ma soprattutto abbiamo allertato l'Hauser rispetto a questo problema che propone agli anziani tutta una serie di attività anche sociali utili so che sarete un po' stanchi se ce la fate ancora affrontiamo solo più diciamo due capitoletti due 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 sì gli interventi psicoeducazionali abbiamo detto di tutta la terapia l'armamentare che abbiamo messo in campo parte essenziale sono anche gli interventi psicoeducazionali perché perché i giocatori d'azzardo devono conoscere e impadronirsi dei meccanismi dei condizionamenti delle illusioni e le distorsioni cognitive che il gioco d'azzardo ha generato loro quindi indotte dal gioco d'azzardo sia loro che i familiari i giocatori d'azzardo confondono la fortuna con la capacità di determinare la fortuna che è una contraddizione in termini hanno l'illusione del controllo del caso quindi unipotenza illusoria io ho letto una ricerca sugli skydivers sono coloro che si buttano dall'aeroplano senza paracadute cioè paracadute ce l'hanno ma lo aprono quando stanno arrivando giù ogni tanto qualcuno ci lascia le penne intervistati cosa dicono? e beh le variabili un gesto così sono talmente tante uno dice no 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 non si era preparato bene ha commesso un errore quindi quello che viene fuori è il senso di onnipotenza di poter controllare tutte le variabili in gioco nell'azzardo non si arriva mai ai secondi non c'è nemmeno la medaglia di legno però nelle verbalizzazioni ho fatto una quasi vincita il numero prima invece del numero dopo è venuto fuori quello su cui ho giocato io mettono la competenza contro l'alea contro il caso per cui fanno tutti i calcoli degli sforzi di memorizzazione incredibili oppure i gesti se gioco a dadi se io tiro il dado in questo modo qui quest'altro tutta una serie di illusioni di poter controllare l'esito nella sorte non c'è equità non viene garantito il diritto al risarcimento dalla fortuna più il tempo passa più ritengono che aumentino le possibilità di vincere diritto del risarcimento più un numero non è uscito più ritengono che si è costretto ad uscire contro invece le leggi del caso e poi le superstizioni i riti scaramantici il pensiero l'atto magico confondono il sacro col profano tutti questi riti che ricordano un po' l'ossessivo ma mentre l'ossessivo la sua ritualità ego distonica ci sta male dentro nel gioco d'azzardo questa ossessità rituale è invece totalmente cosintonica è funzionale a dominare il caso c'è una ricerca a Eurostat quella che compara tutto in Europa l'ha fatta sulla superstizione noi in Europa arriviamo terzi dopo la Repubblica Ceca e la Lituania non chiedetemi perché comunque arriviamo terzi allora capite che tutti questi interventi psicoeducativi hanno la loro importanza fondata sono interventi psicoeducativi di gruppo vengono esposte le diverse teorie che i singoli giocatori hanno elaborato dalla loro onnipotenza sulla opportunità di vittorie che sono sempre sovrastimate questi interventi sono accettati per due motivi uno sono brevi bastano quattro incontri e due ore tu il terreno lo ari e poi molto spesso perché vengono condotti da esperti per esperienza da loro pari di persone che ne sono uscite e quindi la sanno lunga su queste cose ok c'è anche un modulo diverso per i familiari centrato invece sulle preoccupazioni e le difficoltà dei familiari che derivano a stretto contatto con un giocatore d'azzardo problematico quindi da una parte in questo modulo si dice dovete autotutelarvi soprattutto la trappola della codipendenza io ti salverò ok e d'altra parte invece dovete cercare di impadronirvi di strumenti che possano aiutarli ad uscire accompagnarli nella cura funziona molto come in tutte le dipendenze diciamo funziona anche bene molto nelle dipendenze già un po' presuntuoso funziona anche nelle dipendenze l'automutuo aiuto perché si basa sul principio del helper tu help aiutare helper colui che aiuta della serie aiutando gli altri in realtà aiuto me stesso quindi è un discorso tra persone pari che stanno tutti sulla stessa barca però questo crea vicinanza crea fiducia c'è un buon transfert iniziale perché ognuno si specchia nelle difficoltà nell'altro quindi l'helper che mette a disposizione le capacità le competenze che è riuscito a formarsi dopo che è rimasto astinente mentre aiuta l'altro in realtà controlla le sue difficoltà perché le sue difficoltà sono proiettate sull'altro io ti aiuto a risolvere questo modo il modo migliore per risolvere le mie guardate un principio banale la scuola un insegnante con una classe multietica 25 alunni ce n'è uno che non ha capito tanto ha spiegato due volte non ha tempo dice al più bravo prova a spiegarglielo tu il ragazzino diligente se lo prende da parte spiega rispiega ma chi ne beneficia di più di queste operazioni il ragazzino più bravo che deve riorganizzare le sue nozioni per insegnare all'altro e quindi risistema eccetera questo è il principio dell'helper ovviamente ne beneficia anche l'altro alternando i ruoli nei confronti dei nuovi arrivati perché nell'autoiuto funziona molto il cosiddetto sponsor arriva uno nuovo io mi prendo cura di te e quindi attiva tutta questa sono anonimi e quindi non solo forniscono immediata accoglienza sempre aperti non chiedono generalità identificative personali ti accolgono anche se stai continuando a giocare non ti chiedono il comportamento astinente basta che tu sei lì perché sei preoccupato di non riuscire a smettere hai perso il controllo questi gruppi di autoiuto funzionano se rigorosamente stanno sul confronto dell'esperienza personale nessuna teoria è un confronto la mia esperienza e la tua esperienza e io imparo direttamente dal concreto alcuni servizi intelligenti che prendono le persone in terapia anche individuale o un gruppo terapeutico nel servizio dicono guarda che se nel frattempo frequenti un gruppo di autobus non ti fa male anzi a volte lo dicono quando finisce la loro terapia a volte dicono no in parallelo fai anche questo quindi la terapia di gruppo alternativo complementare alla terapia individuale nella terapia del gruppo con psicoterapeuti invece cambia molto spesso una regola dai gruppi di autoaiuto perché qui i componenti del gruppo non sono sollecitate a incontrarsi al di fuori degli appuntamenti ufficiali quindi cambia il meccanismo a volte nel gruppo sono qui coinvolti anche i familiari e a volte viene richiesto come prerequisito l'astinenza del gioco quindi si fanno i gruppi per i già astinenti differenza dai gamblers anonymous non vi dico nulla sui trattamenti farmacologici che sono generificaci solo per le comorbidità ma non per il gioco d'azzardo di per sé si lavora molto sulla prevenzione alla ricaduta la ricaduta come c'è sempre ricordato l'organizzazione mondiale della sanità è la caratteristica principale della dipendenza la dipendenza è una malattia con una caratteristica principale due punti la recidiva quindi la ricaduta bisogna metterla ahimè nel conto bisogna prevederla non bisogna né minimizzarla né drammatizzarla e soprattutto non bisogna fare l'errore che si è fatto tempo fa con le persone tossicodipendenti quando capita non bisogna stigmatizzarla quindi non diventi la pecora nera che rovina gli altri perché dagli sbagli sappiamo si può imparare se io dovessi fare un elogio dell'errore cosa vi direi che l'errore è una formidabile fonte di informazione allora se tu lo vedi da quello puoi imparare se non lo vedi a Roma direbbero sei un coatto continui a ripeterlo però non ha imparato a vederlo in genere guardate che chi ha fatto un trattamento il vissuto della ricaduta in genere è egodistonico non se la vive bene la ricaduta e questa è una risorsa perché si sente in colpa si vergogna si sente inetto pensa che è un destino a cui non può sottrarsi e quindi bisogna assolutamente contenere il senso di fallimento e il suo effetto alone e quindi non bisogna lasciare che la ricaduta sia sopraffatta da una reazione depressiva che aprirebbe la strada a una ricaduta ancora più grave in genere i servizi fanno spesso a fine trattamento diciamo la prevenzione delle ricadute c'è l'accompagnamento qui finisco veramente c'è l'accompagnamento e la valutazione dei trattamenti allorché finiscono avete capito l'abbiamo già detto che l'approccio è multimodale perché è l'unico efficace anche se non abbiamo studi comparativi significativi sull'efficacia dei diversi trattamenti sappiamo che il trattamento multimodale non dico che sia più efficace forse è l'unico efficace i dati sono sempre un po' traditori delle ricerche diciamo l'unica terapia psicologica sottoposta a ricerca controllata è la terapia cognitivo comportamentale che ha dimostrato la sua efficacia parliamo sempre di efficacia relativa ma diciamo una discreta efficacia gli studi sulla terapia del gioco d'azzardo riportano però questo è un dato che riguarda tutte le dipendenze un 35-50% di abbandoni del trattamento quindi tutto il discorso che abbiamo fatto sul trattenere in trattamento le persone per conto per conto c'è una buona notizia la remissione spontanea dal disturbo qui dato spannometrico varie ricerche coinvolgerebbe quasi un terzo dei giocatori vi dico in Ternos il 30% dei giocatori puri sono i giocatori puri quelli che hanno più risorse per farcela da solo identificati comunque i motivi invece degli insuccessi questi sono più chiari tre su tutti motivi degli insuccessi uno l'abbiamo appena detto la presenza di patologie psichiatriche conclamate o di altre dipendenze crociate due questo vale per tutti i trattamenti l'insufficiente motivazione alla cura lo spontaneo ha molte più chance dello spintaneo anche se poi dipende molto dal modo in cui ci lavori da come lo agganci eccetera e tre è un atteggiamento dei familiari che non rimane convinto che ha una pregiudizio sfavorevole rispetto alla prognosi e quindi tendenzialmente tende più al disimpegno che all'impegno questi sono i tre fattori che sicuramente non aiutano non vi ho detto tutto spero di avervi detto molto data lunga c'è forse ancora il tempo non molto di fare qualche domanda che sono ovviamente benvenute grazie ha parlato dell'approccio psicosociale ma nella categoria uno e due quando lei parla di approccio farmacologico l'ha detto dopo si riferisce agli antidepressivi quindi in pratica la terapia farmacologica è solo con gli antidepressivi eh? io la seconda diario sì ecco volevo sapere solo questo grazie sì sì la domanda è chiara ma rispetto al trattamento farmacologico sulle tre tipologie di Blezinski vale soprattutto per la due perché si mira alla alla diagnosi che in qualche modo sostiene il gioco d'azzardo depressione l'ansia quindi problematiche di questo tipo qui rispetto alle quali i trattamenti farmacologici sono consolidati e possono avere dei benefici sui giocatori puri tendenzialmente non so se la vostra esperienza cesena puoi aggiungere qualcosa su questo io sono psicologo non sono non sono medico non sono psichiatra non sono farmacologo però tendenzialmente vengono anche rifiutati i trasvendi farmacologici la tipologia 3 impulsivi antisociali non tengono la cura farmacologica quindi diciamo il beneficio è soprattutto il secondo di al tipo di Blezinski linea di massima poi non so se confermi o meno voglia aggiungo solo che concordo totalmente noi come dipartimento a cesena facciamo sempre una consulenza psichiatrica comunque nell'osservazione perché come dicevi tu a volte sono molto mascherate sono forme di comodità mascherate sono presenti magari ricoveri in passato per episodi depressivi episodi d'ansia o come dicevi tu a volte arrivano anche dal medico di base per forti depressioni mascherate poi emerge col familiare la tematica noi una consulenza la mettiamo sempre per nella fase d'osservazione spesso la rifiutano per quel motivo che dicevi tu però noi la mettiamo come nel programma grazie 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 Salve professore, volevo chiederle rispetto alla scelta del controllore a cui faceva riferimento prima, essendo una questione particolarmente delicata, come lei ha suggerito di scegliere a volte che la scelta è la più utile forse? Potrebbe essere quella di un amico. Conviene che molte volte gli amici non sono a conoscenza di quello che sta succedendo, quindi in quei casi in cui la famiglia poi si attiva tutta per rimediare in qualche modo ai danni, lei che cosa suggerisce? In un caso che sto seguendo comunque il controllo l'ha preso il marito con tutto quello che ne consegue. A volte è inevitabile, perché appunto arrivare all'amministrazione di sostegno è una pratica faticosa, lunga, non sempre accettata, eccetera. L'amico ci deve essere e l'amico tra l'altro deve avere anche, non solo essere amico, sincero, che tra l'altro in genere sa, poi fa finta di non sapere, a volte è vittima di qualche debito o contratto, quindi non è che non sappia, però non si vuole neanche troppo impicciare, non è più stato chiamato in mezzo, magari aveva già cercato di aiutarlo una volta ma senza successo. Se l'amico c'è, dopo la fase della disperazione che si traduce in rivelazione e confessione, tra virgolette, l'amico può essere tirato in causa. Cioè in questo patto familiare, ma direi anche relazionale e sociale un po' più vasto, ci possono stare tutte le persone che nel passato avevano a cuore la vita della persona fondamentalmente. Allora l'amico, per il fatto di non vivere in casa, di non essere soggetto di dinamiche storiche, tipiche delle vicende familiari, eccetera, può reggere meglio le frustrazioni, quindi le piccole aggressività di chi viene controllato, ovviamente dà fastidio a tutti essere controllati, eccetera. Le mette in conto, viene un po' formato su questo, ulteriore compito di servizio, anche formare, cioè chi si becca questa fase di lavoro sporco. È più distaccato e quindi non ci vive assieme, quindi sul rapporto è limitato a queste funzioni. Si regolamenta con molto più carezza i momenti in cui avviene lo scambio di denaro o la rendicontazione del denaro speso, che poi si chiedono gli scontrini, eccetera, eccetera. Quindi è molto meno esposto, da molti punti di vista, e risparmia la famiglia, una funzione scomoda che può essere centrifugata in dinamiche familiari che non si sono ancora riprese appieno e che possono richiamare di molto il passato. Quindi se c'è, l'amico tendenzialmente è me. Se non c'è e non lo possiamo inventare, in qualche caso, questo è un lavoro che possono fare i volontari, anche qui formati, eccetera, si sono accettati dalla persona, perché è chiaro che la persona deve accettare che l'altra svolga questa funzione, avere un contributo esterno come sarebbe quello dell'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno ha poi un'autorevolezza che viene data da una procedura più generale, scusate, non l'avevo spento, da una procedura più generale, che a volte di per sé non viene accettata. Quindi tendenzialmente direi, se c'è l'amico, se lo riusciamo a recuperare, è la soluzione migliore, se non c'è proviamo a costruire la figura accettabile, in ultima analisi si ricorre ai familiari quando questa funzione comunque deve essere esplicata. Dunque, volevo chiedere questo, per chi ha accanto una persona che ormai è affetto da ludopatia, eccetera, qual è l'atteggiamento migliore per spingerlo a chiedere aiuto? Cioè quello dell'evidenzazione dei rischi e quindi dell'angoscia, diciamo, di far leva sulla paura di avere una malattia grave, che lo porterebbe poi, diciamo, oltre che alla dissipazione delle risorse, anche a una condizione personale drammatica, oppure come lei diceva, però nella fase appunto dei servizi, no? quella dell'accoglienza e quindi in qualche modo sottovalutare, cioè essere più disponibili a comprendere e però dopo a quel punto sia conniventi col meccanismo. Cioè qual è il modo migliore per spingere? Ok, ti ringrazio per la domanda perché faccio solo un appunto sul termine ludopatia, che noi come associazione mettiamoci in gioco di contrasto a tutto quello che abbiamo detto in premessa, siamo contrari, perché dall'idea del papà che gioca col trenino elettrico al posto del figlio o oggi magari gioca alla Playstation con figlio, si fa prendere e tutti e due devono essere pesantemente richiamati perché è ora di cena, no? L'udopatia libera questo immaginario, no? Diciamo, gioco d'azzardo patologico, disturbo grave da gioco d'azzardo perché l'immagine appunto è quella del papà che rompe il soldaio del figlio per andargli a prendere i soldi, no? Quindi insistiamo anche sulle questioni terminologiche perché l'udopatia può tenere troppo basso il profilo della tragicità della dipendenza dal gioco d'azzardo. Detto questo, che vi è data l'occasione per poter ribadire questo concetto, quale atteggiamento è confrontato? Beh, primo è accorgersene. E prima che un familiare se ne accorga è già passato tanto tempo. Per tante serie di motivi, dipende dalla qualità delle relazioni familiari, eccetera, eccetera. Perché una caratteristica del giocatore d'azzardo è che la sua abitudine, inizialmente chiamiamola così, deve rimanere un segreto. È una cosa sua. Anche perché spesso, per poterle esercitare, ritaglia spazi che dovrebbero essere utilizzati per altro. Quindi per responsabilità, per relazioni, eccetera. E quindi non lo dice. Quindi nelle fasi, diciamo, che non sono brevi, perché sono molto spesso anche anni, bisogna accorgersene. Una volta che si è accorto, mettere in discussione la persona rispetto al dato di realtà. Senti, ma mi sono accorto che tu non fai solo qualche scommessa su qualche partito, ormai si scommette su tutto. Ma quanto spendi? E lui minimizzerà. La sensazione che ho io, le uscite sono maggiori, no? Quindi metterla molto sul piano del danno che questo può comportare per tutti. Vuol dire che poi dobbiamo fare delle scelte, altre cose non le facciamo, eccetera. Quindi diciamo un inizio molto soft, perché la persona nega di avere una dipendenza, della serie appunto sempre smetto quando voglio, eccetera, eccetera. Quindi accumulare tutta una serie di indizi che comunque gli pongono il dato di realtà davanti e soprattutto gli pongono davanti o di fianco una persona che ha capito l'estruzione e a cui sa di dover rendere conto. Un po' da freno di per sé già questo atteggiamento potrebbe fungere. Se non cambia niente, allora cominciare a mettere in discussione che cosa vuol dire una vita insieme con queste nuove difficoltà. E quindi cominciare a porre il farci aiutare. La risposta è no, 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 sempre no, non c'ho bisogno, no? Lo faccio io, perché la prima difficoltà è riconoscere il vero problema, la seconda difficoltà è chiedere aiuto una volta che ha riconosciuto il problema. E anche lì c'è una fase di latenza temporale significativa, no? E allora lì si comincia a porre la questione dell'aiuto. Sempre confrontandolo sui dati realtà e quindi non lasciando passare nulla. Poi dipende dai modi, no? Si può non lasciare passare nulla, quindi essere esigente in tutto quello che noi riscontriamo, mantenendo dei modi tranquilli, dei modi rispettosi. Se invece i modi prevalgono sul contenuto, si scatenano dinamiche di ulteriore fuga, ulteriore clandestinità del comportamento, di non volerne parlare, di scontro, di chiusura, si creano dei muri, eccetera, eccetera. Se neanche questo dà risultati, a un certo punto si comincia a fare il bilancio rispetto a che cosa quel comportamento sta togliendo alla vita familiare e alla vita di coppia. Tendenzialmente vengono messe in discussione le funzioni paterne, se è un maschio, o le funzioni coniugali. E quindi lì si comincia a stringere il cerchio. E lì è, diciamo, quella situazione grigia in cui, tendenzialmente, detta in parole comuni, c'è lo slittamento dalle buone alle cattive, dove nelle cattive si comincia a prefigurare che se la vita assieme continua a avere quella qualità, forse non ne vale la pena. sempre accompagnata, facciamoci aiutare, richiesta d'aiuto e così via, no? Messa così, molti acconsentono la richiesta d'aiuto, è vero che ci vanno con quelle motivazioni, ho stato costretto a mia moglie a venire qua, però a questo punto c'è anche un servizio che se lo sa agganciare, sa fare il suo mestiere, un passo avanti l'abbiamo fatto fondamentalmente. E il compito della famiglia a quel punto muta, no? Si tratta di capire quanto effettivamente va al servizio, sarà importante ottenere dal servizio la possibilità di essere informatiche, quindi la persona firmi il consenso informato che voi possiate interloquire col servizio. che se è maggiorenne dice no, il problema è mio, gli altri rimangono fuori, il servizio è inchiodato, deve fare la liberatoria, però la liberatoria si attiene non con la negoziazione dell'operatore ma con la negoziazione dei familiari che dicono guarda che noi vogliamo stare dentro, vogliamo capire, eccetera, perché altrimenti lì è possibile altre manipolazioni, sono andato, non è andato, no? E così via, eccetera. Quindi il cerchio poi fatalmente si stringe. Quindi direi come indicazione proprio basica, no? Rigidi sul dato in realtà, morbidi nelle modalità. Siamo esauriti? Allora, se le esigenze sono saturate, non ci sono domande, possiamo salutarci, vi ringrazio per aver tenuto due ore abbondanti e buon proseguimento del Festival. Grazie.